Buongiorno a tutti, eccoci, dicevo allora direi che possiamo iniziare, al momento ci sono una quarantina di ragazzi collegati, mi presento di nuovo, io sono Stefano Saviozzi, sono un orientatore dell'ufficio orientamento, nel frattempo Angottina se c'è qualche problemino rientrerà quando riuscirà ad avere una connessione un pochino più stabile, chiedo eventualmente ai colleghi dell'associazione Aster che lavorano dietro le quinte se riescono a risolvere la questione, se eventualmente possono mettersi in contatto con il professor Lomello per risolvere queste problematiche. In collegamento con me c'è anche il professor Cuccia che è il course leader del triennio di Media Design e Arti Multimediali che dopo una presentazione generale farà un focus assieme appunto al professor Emanuele Lomello che è il course leader del triennio di Creative Technologies per Naba. Io adesso condivido questa presentazione, dovreste vederla ragazzi, vi chiedo un check, potete poi portarla in full screen, io posso metterla, non so se voi la vedete a tutta pagina o la vedete semplicemente in basso come la vedo io nella barra, però vedo che si può tranquillamente ingrandire. Ecco, farò un breve focus generale su quella che è l'offerta accademica di Naba. Una breve presentazione, Naba Nuova Accademia di Belle Arti è un'accademia di belle arti private riconosciuta dal Ministero che ha storicamente sede a Milano e dall'anno scorso ha aperto anche i suoi corsi nella sede di Roma. Questi che vedete presentati sono i sette corsi triennali presenti a Milano e i quattro a Roma, tutti quanti al termine del triennio vi permettono di ottenere un diploma accademico di primo livello. Questo titolo di studio è un titolo di studio che si definisce equipollente, cioè che ha lo stesso identico valore legale di un triennio universitario in un corso tradizionale, può essere lettere, economia, ingegneria. Questo cosa vuol dire? Che al termine del triennio con il diploma accademico, se volete potete continuare il vostro percorso di studi con un biennio specialistico o con un master che potete frequentare in Naba, in un'altra accademia o in un percorso universitario. Un breve focus sui sette corsi che partendo da quelli presenti sia a Milano che a Roma, che sono graphic design e art direction legato alla grafica, alla comunicazione, alla pubblicità in primis. Poi abbiamo fashion design legato al mondo della moda e alla comunicazione nell'ambito della moda. Media design e arti multimediali legato alla produzione audiovisiva del quale poi appunto il professor Cuccia farà una presentazione più dettagliata. E il triennio in pittura artivisive legato alle discipline più tradizionali e alle professioni anche del mercato dell'arte. E questi quattro sono presenti sia per la sede di Milano che per la sede di Roma. Soltanto a Milano invece abbiamo il triennio in design legato al disegno interni e al design del prodotto. Poi abbiamo il triennio in scenografia legato alla realizzazione di allestimenti che possono essere teatrali, televisivi ma anche legati ad eventi di qualsiasi tipo. E poi in ultimo il triennio, perché è l'ultimo nato appunto, il triennio in creative technologies e di questo invece ne parlerà il professor Lomello successivamente. Allora, mi chiede un secondo un'informazione legata al professor Lomello. Datemi un attimo ragazzi, vi chiedo un attimo di pazienza. Ragazzi, è il primo webinar, in questo periodo stiamo testando mille tecnologie diverse. Stefano mi butta fuori. Vedo, infatti Emanuele ti sto facendo contattare direttamente dalla responsabile per risolvere questo problema. Ti contatteranno adesso telefonicamente. Per cui dovremmo riuscire a risolvere questa problematica. Nel frattempo io continuo la parte procedurale, così abbiamo tempo di risolvere la questione. Dicevo ragazzi, quella che avete visto è l'offerta formativa, nel dettaglio adesso passiamo a quelle che sono le modalità di ammissione, come si entra in accademia, come si fa ad accedere ai trienni accademici proposti da Naba. Come vedete ci sono ancora previste tre sessioni di ammissione. La prossima, che è una delle più importanti, è quella del 14 luglio per Milano e del 16 luglio per Roma, che si svolgerà in modalità virtuale, come è successo negli ultimi mesi, purtroppo a causa dell'emergenza che stiamo vivendo tutti quanti a livello globale. E la prova di ammissione funziona in questo modo, vi iscrivete tramite il sito, tramite sito naba.it, effettuate il pagamento della quota di iscrizione di 90 euro per la sessione di luglio, e cosa succede? In modalità B, che è la modalità più gettonata, una decina di giorni prima della data del test, ricevete un'email con un tema da svolgere a casa. Svolgete questo progetto, progetto tecnicamente molto facile, ma questa è una cosa che ci tengo a dire, nel senso molto facile, nel senso che è fattibile anche da studenti che non hanno competenze nelle varie discipline. Noi abbiamo più della metà dei ragazzi che non hanno fatto un percorso artistico o di indirizzo, eppure sono tranquillamente riusciti ad affrontare la prova di ammissione, perché è una prova che valuta soprattutto anche quelle che sono le vostre competenze creative, l'approccio che avete verso questo tipo di corsi. Sviluppate quindi questo progetto che ci invierete tramite mail un paio di giorni prima, e il giorno del test vi collegherete virtualmente con i docenti dell'accademia, dove tramite una piattaforma virtuale svolgerete un colloquio in cui presenterete il progetto che avete svolto a casa, e un vostro eventuale portfolio, cioè un insieme dei lavori che magari avete sviluppato durante o la vostra esperienza scolastica, o perché sono un insieme di lavori che avete svolto voi autonomamente, portando avanti quelle che sono le vostre passioni. E questo vale per il 14 luglio per Roma, il 14 luglio per Milano e il 16 luglio per Roma. La modalità A, invece, è quella modalità tramite la quale venite valutati esclusivamente attraverso il vostro portfolio, per cui non c'è nessun progetto da svolgere a casa, ma ci inviate semplicemente alla selezione dei vostri migliori lavori. La differenza sostanziale tra le due modalità è che la modalità B vi dà la possibilità di partecipare al bando per le borse di studio, di cui a breve vi parlerò, mentre la modalità A non dà mai la possibilità di partecipare alla borsa di studio. Le date successive sono quella del primo settembre, che è una data straordinaria, e sarà valida nella stessa data sia per Milano che per Roma, e sarà ancora in modalità virtuale, mentre quelle del 16 e del 18 settembre sono le date canoniche che noi avevamo già in previsione, e che speriamo di poter effettuare in presenza, in modo che possiate anche venire a visitare il campus, ma che su questo però vi daremo conferma nelle prossime settimane, e vi invito a rimanere collegati con le pagine web, con le pagine social dell'Accademia, per avere aggiornamenti in merito. Voi fate, come dicevo, il vostro colloquio, in cui presentate il progetto o il portfoglio, e dentro due o tre giorni, dalla data del test, vi arriverà un'email in cui vi si comunicherà se siete stati ammessi o meno all'Accademia. Un passaggio importante è questo, quello delle borse di studio. Sono oltre 150 e anche di più le borse di studio a disposizione per tutti i ragazzi, che faranno il test d'ammissione nelle date del 14 e del 16 luglio, che sono le ultime possibili per ottenere questa agevolazione. La borsa di studio è un riconoscimento che viene dato sulla base della valutazione che ottenete al test d'ammissione. Vi giocate tutte le opportunità di vincerla proprio in occasione del test. Queste borse di studio, appunto, sono legate alla valutazione che avete ottenuto e consistono in uno sconto sulla retta di frequenza garantito per tutti e tre gli anni. Ve lo prendete, in pratica, questo premio con il test al primo anno e se non andate fuori corso e mantenete una buona media, ve le portate dietro per tutti e tre gli anni. Questa scontistica è garantita. E' importante ricordare, appunto, che per giocarsi l'occasione della borsa di studio dovete fare il test a luglio in modalità B, esclusivamente, e per partecipare dovete inviare il bando che trovate sul sito naba.it. Non è automatico, facendo il test in questa data, entrare in graduatoria, ma dovete inviare il bando che trovate nei documenti da scaricare all'atto dell'iscrizione al test. Poi, al termine di questa presentazione, potrete fare eventualmente delle domande in merito a tutto quanto. Io vi lascio, come ultima slide, questi che sono i contatti dell'Accademia e che vi potete segnare, vi potete poi anche chiedere, provate anche sul sito, per poter poi avere maggiori informazioni e iscrivervi, sia per la sede di Milano che per la sede di Roma. Adesso vedo che il professor Lomello si è riconnesso di nuovo. Eccolo. Buongiorno a tutti. Spero che abbia risolto i problemi, dovremmo aver risolto i problemi tecnici, spero. Sembra di sì. Bene. Perdonateci, piccole, classici problemi quotidiani, direi ormai, che noi che viviamo online. Esatto. Ormai, come dico sempre, abbiamo passato più tempo davanti alla telecamera, nemmeno fossimo attori di Hollywood. Quello che dicevo prima anche a Sorcuccia è che io sono un po' nella stanza dei bottoni, nel senso che condividerò io il PowerPoint, vi chiedo di farmi un cenno, richiamarmi all'ordine quando passare alla slide successiva o eventualmente far partire uno dei video che sono stati tutti quanti caricati e disponibili, per cui possiamo anche condividere con i ragazzi i video relativi ai progetti. Ma quindi dovremmo fare le persone serie, tipo Saviozzi, la prego. Esatto, esatto. Sarà difficilissimo fare le persone serie. Sarà difficilissimo essere seri, abbiamo con noi connessi quasi una cinquantina di ragazzi, al massimo ci giochiamo quel poco di credibilità che ci è rimasta in questa occasione. Ormai minima. Ormai minima. Io ho chiuso una parte in cui ho cercato di essere serie di istituzionale, ma siamo già degenerati, per cui condivido il PowerPoint che avete preparato con le vostre presentazioni. Ecco qua, questa è la prima slide, anzi la prima slide è questa, di introduzione. Penso che partirà Vincenzo Cuccia con la parte di media design, corretto. Ragazzi, prof, lascio la parola a voi, io rimango in cabina di regia. Grazie, grazie Stefano. Vuoi fare tu il cappello introduttivo Emanuele? Ma sì, allora, ragazzi, per noi è un po' strana questa presentazione, perché di solito siamo abituati negli ultimi anni a farla insieme, in aule molto grimite, durante gli open day in accademia. E quindi cerchiamo, come dire, di solito ci lanciamo un po' la palla, no? Cioè, è proprio anche un po' fisicamente. Ora siamo fisicamente tutti e due un po' distanti, quindi ci sentiamo un po' più, come dire, un po' strano, no? Allora, intanto, la foto che voi vedete qui di fronte, dove vedete un green screen, per chi non lo conoscenze, il green screen è una delle tecniche classiche che si utilizzano da più di, direi, più di 30 anni. Nel mondo dell'audio, tendenzialmente dell'audiovisivo, per la produzione di VFX. Per VFX intendiamo quello che spesso vengono chiamati gli effetti speciali o gli effetti visivi, cioè quando abbiamo bisogno di mettere insieme delle immagini riprese da una telecamera con delle immagini realizzate a computer in 3D. Cioè, la classica cosa da Daenerys sul drago a Game of Thrones, lo sappiamo, i draghi non esistono, credo, e quello che abbiamo è che il Daenerys, in realtà come attrice, non l'avete visto in centomila backstage, sta all'interno di un teatro di posa, cioè uno spazio dove si fanno le riprese completamente verde, e quel verde è un colore particolare che viene, si dice, tecnicamente bucato, cioè viene cancellato, immaginate una classica funzione tipo da Photoshop, viene cancellato e laddove viene cancellato vengono aggiunti gli elementi tridimensionali realizzati in computer grafica. Quindi questo è uno dei nostri teatri di posa. in posizione tendenzialmente poco seria, ci sono due disgraziati dei nostri studenti. In realtà uno, tutti e due si sono laureati, uno è stato anche un tutor assistente del teatro di posa, e attualmente lavora come freelance e continua a collaborare con noi. Quindi era un'immagine divertente che ci sembrava che abbiamo da inserire all'interno di questa presentazione, perché in un unico spazio due persone, perché è un po' quello che rappresenta questi due trienni all'interno dell'Accademia. L'Accademia esiste da 40 anni, l'area media esiste da molti anni, Vincenzo da quanti siamo con media? 25? Eh sì, più o meno. Il triennio invece di nuove tecnologie è giovanissimo, è nato sostanzialmente poco più che tre anni fa. Gli insegno in Accademia da, e ve la prendo un po' alla larga, insegno in Accademia ormai da parecchi anni, cioè ormai da 14 anni. Sono un interaction designer, cioè sviluppo sistemi interattivi per mostre, musei, spettacoli, cioè mi occupo un po' di elettroniche e un po' di software. Di base mi piacerebbe tanto, cioè sono felice quando mi chiamano nerd, ecco giusto per darvi un po' l'idea. Insegno in Accademia da tanti anni e quello che abbiamo visto sempre di più nel corso delle lezioni, nel passaggio dei semestri, era che nelle aule di media tendeva sempre più alle classi a dividersi in due tronconi. Chi voleva seguire un approccio più progettuale, autoriale, e chi invece voleva esplorare in maniera più forte quello che erano le possibilità tecniche e tecnologiche. Allora, quando abbiamo potuto, quando il Ministero ci ha dato la possibilità, abbiamo creato una seconda entità, un fratello del triennio di media che permettesse agli studenti che volessero approfondire in maniera più pragmatica, più tecnica, le tecnologie legate al mondo degli audiovisivi, ecco questo lo potessero fare. Quindi quello che è successo quattro anni fa è che da un unico ambiente, da un'unica stanza, da qui tipo da un'unica stanza come si fosse il green screen, sono nate due anime, due soggetti. Uno, media, che esiste già da tanto tempo, di cui il professor Vincenzo Cuccia è il course leader, e poi nuove tecnologie che il fratello giovane, di cui io, Emanuele Lomello, sono il course leader. Vincenzo. Ok, grazie. Grazie Emanuele e grazie a Stefano per le doverose introduzioni. Credo che questa spiegazione del professor Lomello è veramente importante per capire appunto la complementarietà che c'è tra questi due trienni, che spero che vi farà anche capire nel corso di questo webinar anche i punti che ci sono anche di incontro e di diversità, proprio perché sono dati da questa complementarietà, che riguarda un ambito che è molto forse più complesso di quello che si possa pensare, che coinvolge tantissimi differenti professionisti dalla progettazione fino alla realizzazione e che ha anche tanti punti di ibridazione, di commistione, di incontro. Ora, chiedo alla stanza dei bottoni di passare alla slide successiva. Grazie mille. perché appunto inizio a dirvi un po' quello che è diciamo la... quello che è insomma il DNA del corso di Media Design e Arti Multimediali per iniziare un po' a capire effettivamente che cosa succede all'interno di questo corso. Allora, quella che vedete in questa slide è una mood board. Magari molti di voi sanno già che cos'è, soprattutto immagino quelli che arrivano da un percorso o che stanno seguendo una scuola di indirizzo artistico. Per altri, come tra l'altro fu il mio caso, che magari fanno facendo uno scientifico o un classico, molto probabilmente come dire, non è qualcosa che rientra tra le loro materie. È un mood board cos'è? È un modo di rappresentare attraverso delle immagini quello che per cui non serve diciamo non si utilizzano delle parole ma dei riferimenti, delle suggestioni che rimandano a quello che è può essere più un mondo stilistico oppure un aspetto più concettuale che c'è dietro a quello che si vorrà fare, no? Che ancora non c'è ma dobbiamo fare capire a qualcuno che cosa sarà, cosa diventerà. Ecco, in questo caso questo collage di immagini vogliono rappresentare quello che è il percorso del viaggio che avviene all'interno del corso di Media Design e Arti Multimediari. Cioè, qual è l'obiettivo? Quello di far partire da quello che è uno sguardo che ognuno di noi ha sul mondo, no? Che è l'immagine di partenza che avete alla sinistra della slide per arrivare attraverso un progetto, un percorso di previsualizzazione, di progettazione, no? Quelle che magari avete sentito sono la sceneggiatura, lo storyboard, per poi passare attraverso la fase di realizzazione, di produzione vera e propria che sono quella della regia, della ripresa o dell'animare a seconda un po' degli ambiti per arrivare poi al montarlo, a metterlo insieme, a posplodurlo e a farlo vedere a qualcuno. In una grande arena, quelle che tanto ci mancano in questo momento che ancora non si possono fruire, stiamo iniziando un po' adesso con le dovute distanze, o come sicuramente tutti noi nel bene o nel male ne abbiamo forse come dire fatta anche una sorta di overdose in questo lockdown attraverso le piattaforme di streaming online come può essere un Netflix, un Prime Video e tante altre importanti che ci sono o semplicemente come può essere un aggregatore di contenuti come YouTube. ecco quindi quello che si fa è un po' dal cercare l'idea al progettarla a realizzarla per che cosa? Per un progetto una produzione inizialmente audiovisiva cioè che mette insieme immagini in movimenti e suoni e che questo può riguardare il mondo del cinema il mondo della televisione il mondo del web il mondo dell'animazione o con un approccio più progettuale che di sviluppo il mondo del videogioco con un'apertura a tutto quello che le nuove tecnologie anche per chi vuole progettare dei contenuti audiovisivi in questo momento ci pone davanti come può essere appunto una come vedete nell'immagine ad esempio un visore di realtà virtuale che in questo momento anche per chi come dire ha l'obiettivo di progettare di essere regista sta cambiando completamente anche la modalità di pensare e di realizzare un audiovisivo domanda Lorian su questo ci sta un po' ossessionando esatto la produzione e sì perché tra l'altro non è solo la questione di quello che io vedo alla fine come esperienza individuale immersiva e anche tutto quello che queste nuove tecnologie portano proprio nel momento del fare il cinema dove io vedo qualcosa quello che prima vedevamo ma adesso ve lo spiegherà sicuramente molto meglio anche il professor Lomello come uno schermo verde e tutto il resto ce lo si immaginava o lo si doveva vedere con un po' di scarto diciamo temporale ora attraverso appunto virtual reality augmented reality e altri sistemi può avvenire fisicamente e veramente in un set quindi sì questo sta cambiando cambiando le carte in maniera molto molto veloce allora io prima citavo citavo domanda Lorian perché in qualche modo è la produzione che sta scuotendo dal nelle viscere le grandi produzioni blockbuster americane che in realtà però ha una valenza di rivoluzione molto importante che per quanto riguarda tutto il mondo tutto il mondo indie ora credo che voi possiate interagire solo attraverso le Q&A o le chat quindi ipotizzo che molti di voi in questo periodo abbiano visto abbiano sentito parlare di The Mandalorian The Mandalorian è l'ultima serie di Star Wars ed è la prima serie ed è la prima grande più che serie la prima grande produzione cinematografica in cui dopo dopo quasi 40 anni 30 anni viene completamente rivoluzionato la produzione stessa perché vi accennavo prima quando parlavo del green screen che quello che quello che fino ad ora è avvenuto e quello che avverrà ancora per parecchio tempo è che quando c'è bisogno di fare delle produzioni in cui non si va a fare una ripresa solo esclusiva del mondo reale ma si aggiungono gli elementi digitali spesso viene utilizzato un green screen bene fino ad ora il green screen era una delle pochissime strade diciamo l'unica o la strada principale attualmente invece si può seguire si può perseguire un'altra strada che è quella di invece di usare un green screen è quella di utilizzare come ambiente immaginatevi una grandissima stanza ricoperta di ledwall e ledwall sono quelle tecniche sono tipo quelli pannelloni tipo monitor che di solito a volte vedete anche negli stadi nei concerti o negli eventi sportivi ecco immaginatevi invece di avere solo un rettangolo magari grande 4 metri per 3 ci siano 100-200 metri quadri di ledwall di queste pareti di led sparse per un'intera stanza a coprirne diverse pareti quello che viene fatto adesso nel cinema è che poi vi farò vedere un video che ve lo racconta a fine presentazione ma quello che avviene è che si utilizzano degli strumenti nel mondo game nello specifico alcuni motori di render alcuni engine per visualizzare in tempo reale gli ambientazioni che vengono direttamente riprese dalla telecamera questo ragazzi completamente sta rivoluzionando rivoluzionerà nei prossimi anni il mondo del cinema perché non dovremo più andare in un deserto reale per fare delle riprese ma potremo stare all'interno di un set di un set virtuale non dovremo più andare in uno spazio come dire di ghiacciaio in montagna perché potremo tranquillamente stare all'interno di un set questo abbatte i cost da un punto di vista produttivo in maniera incredibile e dà una possibilità creativa molto 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 importante perché prima parlavo mi sono collegato ad Mandalorian parlando della realtà virtuale perché immaginate questo io sono in uno spazio completamente asettico una stanza completamente verde senza nulla e il regista e l'attore si devono immaginare che cosa devono immaginarsi le ambientazioni e come interagire con le ambientazioni con un sistema invece di virtual production questa immaginazione in qualche modo scompare perché ci sono già gli elementi che ci permettono di vedere realmente quello che sono poi le costruzioni le ambientazioni le ambientazioni digitali in più quello che avviene è che il regista stesso con lo scenografo cioè con colui che costruisce le scenografie gli oggetti di scena gli ambienti e con il disegnatore luci col direttore della fotografia indossando i caschetti di realtà virtuale quello che loro possono fare è che possono immergersi totalmente in questa realtà virtuale in questo ambiente digitale controllarlo in tempo reale e una volta che hanno trovato la direzione giusta possono togliersi il caschetto di realtà virtuale condividere le informazioni con l'attore ed eseguire le riprese cioè possono sostanzialmente creare i set direttamente durante le riprese e questo cambia enormemente le prospettive ora per fare questo c'è bisogno non solo di autori che siano in grado di scrivere una sceneggiatura da un punto di vista registico di gestire un intero di un intero progetto o essere in grado di gestire una telecamera ma c'è bisogno di persone che abbiano cultura da un punto di vista linguistico cioè legato al mondo del cinema ma che sappiano anche interpretare e utilizzare le tecnologie in maniera completamente nuova Salve Ossi slide successiva grazie eccoci qua e allora qual è quella figura che può aiutare a utilizzare tecnologie differenti in contesti considerati classici come potrebbe essere il cinema ma bene questa figura è il technical artist spesso viene anche definito creative technologist ora siamo in Italia abbiamo una lingua bellissima purtroppo spesso ci ritroviamo a utilizzare termini stranieri nel nostro ambito in qualche modo è un po' normale che questo avvenga perché non siamo legati perché il nostro ambito non è quello italiane il nostro ambito è quello internazionale e a livello internazionale all'interno del mondo tecnologico digitale l'inglese l'inglese semplificato l'inglese tecnico è comunque la lingua di riferimento quindi ci sono terminologie che inevitabilmente nascono in inglese e per comodità tali rimangono anche nel colloquiare normalmente in altre lingue allora technical artist o creative technologist partiamo dal secondo creative technologist il creative technologist è un technologist cioè un esperto di tecnologia è un tecnico che è in grado di attraverso la propria cultura di mettere in discussioni quelle basi tecniche di reinterpretare le tecnologie come attraverso un percorso dato il fatto che creative technologist attraverso un percorso creativo noi siamo un'accademia di belle arti storicamente l'accademia di belle arti mettono insieme il pensiero con la mano l'abilità tecnica con l'abilità culturale interpretativa di osservazione bene quello che noi facciamo è proprio questo impariamo a utilizzare le macchine e impariamo anche attraverso un processo culturale a rimettere in discussione l'uso di tali macchine e come dire impariamo a reinventare l'uso di tali macchine questo è un motivo per cui spesso quello che noi facciamo è che mettiamo insieme le competenze che arrivano da mondi molto lontani come il VFX il 3D il game ad esempio in processi che poi tendono a produrre un unico un unico prodotto come ad esempio la virtual production Stefano eccomi qua ok grazie ora appunto andiamo facciamo ancora uno step ulteriore poi immagino che le domande risponderemo alle domande alla fine giusto Stefano confermo sì 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 tutte le domande scusami ne approfitto per dire ai ragazzi che vedo che stanno entrando delle domande nella sezione Q&A fatele pure tutte quante poi al termine di tutto affronteremo tutte le domande sia sulla parte di ammissione che ho visto all'inizio che sulla parte di didattica e sulle professioni legate ai mondi che stanno presentando i docenti ok grazie perfetto allora giustamente quindi riagganciandomi al discorso del professor Lomello quindi abbiamo queste due prospettive una che parte dal taglio più diciamo autoriale e l'altra che parte dal taglio più creativo tecnologico come dicevamo all'inizio non è che sono due ambiti che non si incrociano non parlano non parlano la stessa lingua anzi la vera sfida è proprio riuscire a potenziare entrambi perché questo fa sì che si abbia alla fine si abbiano alla fine delle produzioni che sono anche molto molto complesse che richiedono una dei team di lavoro estremamente preparati e che sappiano da una parte avere delle idee creative e inserirsi anche in maniera autoriale ma allo stesso tempo sappiano confrontarsi con chi sa il potenziale che c'è dietro queste tecnologie ma un potenziale dal punto di vista creativo non è solo una questione di saper utilizzare la macchina è una questione di capire per quello che è l'obiettivo per quello che è anche il senso del progetto e anche dell'autorialità che c'è dietro quali interventi creativi si possono fare non c'è nulla che fa le cose già da sole seppure noi stiamo molto esplorando e capendo quanto l'intelligenza artificiale possa entrare dentro questo mondo nonostante abbiate recentemente anche sentito che c'è stanno sviluppando fa senso solo a dirlo la prima attrice che è un robot con un'intelligenza artificiale che sarà la prima attrice diciamo robot dotata di intelligenza artificiale che sarà la protagonista di un film come dire tutto quello che c'è dietro è anche di creativo non sarà un semplice diciamo così un rimpiazzare una creatività che al momento più di più dell'essere umano è difficile che ci possa essere quindi conoscere la tecnologia per inserirla in un progetto e in un linguaggio ora per chi fa il percorso di media design si aprono queste tre possibilità di percorso che sono poi gli indirizzi presenti all'interno del piano di studi questo per cercare di coprire quella che è quelle che sono le possibilità nella realizzazione di un progetto audiovisivo che possa essere più tra virgolette tradizionale poi insomma noi lo definiamo lineare cioè che non prevede una vera e propria interazione da parte dell'utente ma si rimane come spettatori in un certo senso un po' passivi ma in realtà stiamo facendo come dire comunque in maniera attiva pensare il nostro il nostro spettatore ma non interagisce ed è quella appunto che dicevo prima un po' del principalmente del cinema o dell'audiovisivo che voi vi vedete così com'è seguite un discorso pensato dal regista e arrivate alla fine questo può essere un discorso un qualcosa girato dal vivo oppure può utilizzare quello che è il linguaggio dell'animazione ok quindi parte dal disegno o dall'animazione di oggetti come la stop motion e vado ad utilizzare un linguaggio specifico che può dire l'animazione dall'altra parte puoi vedere invece un'interazione allora ecco che c'è l'aspetto legato al game design quindi no come progetto un audiovisivo che ad un certo punto interagisce con il mio utente che diventa un giocatore e lì si può avere appunto quello che è classico diciamo così videogioco o tante altre applicazioni che possono essere anche legate a quelle che sono delle installazioni a cui magari avete anche visto ad esempio magari in qualche in qualche in qualche museo dove avete potuto anche in maniera interattiva vedere dei contenuti scegliere dei percorsi e via dicendo questi tre indirizzi quindi diventano filmmaking appunto per chi è più interessato all'aspetto più di produzione audiovisiva di taglio essere più cinematografico documentaristico legato anche appunto ai contenuti magari audiovisivi per il web quello di animazione che invece è l'altro indirizzo per chi ha più interesse nel linguaggio dell'animazione quindi nel pensare e realizzare storie che possono essere corti 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 di animazioni lungometraggi animati o storie animate che poi rientrano dentro quella che è la comunicazione di un nell'ambito della comunicazione della promozione che può essere può essere all'interno di un videoclip o di uno spot pubblicitario e poi appunto il game design per chi è invece interessato a sviluppare delle storie e dei progetti che diventano poi giocabili dall'utente quindi dei videogiochi questo apre delle prospettive professionali differenti che potete anche dedurre che vedete qua scritti che vanno appunto nell'ambito del film quello che è la figura del filmmaker che insomma negli ultimi anni se anche un po' rispetto a prima è andata sempre a fermare cioè come quella persona che già in autonomia riesce a come dire a pensare a girare e a chiudere un prodotto audiovisivo in maniera completamente anche autonoma seppur sappiatelo fin da adesso che da soli non si riesce mai a fare a fare a fare nulla comunque ci vuole sempre una collaborazione però il concetto è ci sono sempre più produzioni diciamo così anche leggere o estremamente indipendenti o magari estremamente come dire pensati come dei progetti anche artistici individuali per cui da soli si arriva ad avere questo tipo di competenze e si riesce a girare montare e chiudere un progetto da soli in una filiera un po' più diciamo professionale un po' più sviluppata invece ci sono varie figure e siccome si trattano tutte un po' nel corso del triennio ecco che si può diciamo le possibilità poi di prospettive professionali per chi sceglie l'inizio di film diventano quello di sceneggiatore quello di regista quello di direttore della fotografia ora magari sono cose che conoscete bene magari invece la prima volta che li sentite non ci sarebbe il tempo di spiegarle tutte nel dettaglio perché come dire è lunga fondamentalmente parlare di sceneggiatore e regista penso che sia abbastanza comune come Cosmary dietro la fotografia un po' meno però è quello che decide fondamentalmente il look fotografico del film quando voi dite ma perché se io mi metto con la mia camera non riesco ad avere quella bellezza fotografica che vedo in un film o in una sede televisiva su Netflix perché c'è un lavoro sulla fotografia che tra l'altro prevede anche delle competenze tecniche importanti ma c'è anche un discorso creativo dietro e anche autoriale che è importante il montatore quello che mette insieme tutti noi i vari pezzi di girato e li crea ormai voi siete nati e cresciuti digitali e soprattutto molto presto immagino nella vostra nella vostra vita è arrivata questa cosa di poter fare le storie sul telefono e già fondamentalmente avete assaggiato quello che è il montaggio nel momento in cui avete messo insieme un po' delle vostre immagini anche mettendoci dentro delle grafiche diciamo nella mia esperienza personale per capire che cos'è il montaggio e io sono stato montatore e sono tuttora montatore l'ho scoperto solo facendo la scuola o provando all'inizio con delle cose che magari voi non sapete neanche cosa sono si chiamano VHS cercando di registrare da un VHS all'altro con player hack produttore creativo cioè comunque dietro c'è un aspetto di produzione che è molto importante mettere insieme dei team complessi in cui ognuno deve fare il suo vanno coordinati e a volte quanto più la produzione riesce ad avere un dialogo con la parte creativa o addirittura guidarla tanto più si evita uno scollamento che c'è c'è sempre stato ma che a volte ha fatto anche un po' diciamo male nel panorama delle possibilità anche delle possibili produzione che è tra chi ha in mano il budget deve far quadrare i conti e deve coordinare il tutto e l'estro il genio creativo che però poi alla fine non si riesce a far concretizzare su qualcosa media artist perché comunque conoscere il linguaggio audiovisivo saperlo maneggiare può portare anche a degli sbocchi diciamo di taglio più prettamente artistico per cui sono diversi film maker che sempre di più negli ultimi negli ultimi anni hanno preso una strada anche molto di sono diventati proprio dei veri artisti espongono all'interno di dei musei di arte di arte contemporane nelle varie exhibitions esposizioni con dei progetti audiovisivi questo è per quanto riguarda il filmmaking animazione anche qua c'è una regia dietro c'è quella che è anche un art direction quindi scegliere quale è quali sono i personaggi quali sono gli ambienti quale stile dargli c'è l'aspetto legato più all'animazione e qua vi anticipo appunto che ho parlato più di animatore 2D e non vedete animatore 3D perché anche qua la complessità anche del 3D e delle figure professionali che sono all'interno del 3D di cui vi parlerà sicuramente più nello specifico il professor Lomello per l'indizio di nuove tecnologie noi invece nel corso di media abbiamo cercato più di indirizzarci verso l'aspetto del 2D non che sia tra virgolette più semplice ma può essere un attimino più immediato rispetto all'entrare dentro una pipeline di lavoro per il 3D che invece è tecnologicamente molto più complessa però le basi partono da lì esatto le basi sono quelle poi ovviamente si va un po' ad avere una certa autonomia per riuscire anche a realizzare un certo tipo di progetti con un'impronta più diretta e immediata caratter design perché comunque la storia è fatta di personaggi e di ambienti e quindi riuscire comunque ad avere per chi è interessato più su questo l'aspetto dei personaggi ha già delle buone basi per poter anche volendo sviluppare più una diciamo così un ruolo specifico nella nella progettazione e realizzazione di personaggi per l'animazione concept artist in generale insomma vuol dire un po' lavorare all'interno dei progetti di animazione pensando un po' a quello che appunto invece possono essere più che altro gli ambienti in cui si andrà a sviluppare la storia nel game design qua rimaniamo più nell'ambito appunto di quelle figure che sono più focalizzate sull'aspetto diciamo di progettazione iniziale quindi il game designer chi pensa qual è la storia che interattiva che sto pensando per il mio per il videogioco quali elementi appunto personaggi ambienti che mondi voglio voglio pensare per questo per questo videogioco o più game producer cioè capire il tipo di prodotto e e coordinarlo avendo idea di quello che appunto sarà l'obiettivo finale appunto parliamo di un gioco che è un passatempo sullo smartphone e quindi avrà un certo tipo di caratteristiche o invece parliamo di un di un qualcosa di molto più più grande più complesso o un triple A come puoi conoscete esatto e allora lì insomma si va in altra parte calcolate che ci sono poi lo spiegherò meglio dei punti anche di incontro tra tutti questi elementi ecco questo per mettere un po' insieme gli indirizzi e il perché e cosa portano poi una volta concluso il percorso a iniziare come percorso professionale passo alla slide successiva grazie grazie Stefano ragazzi scusatemi non voglio essere così però so che avete un sacco di slide successive con immagini o che altro e visto che stanno non volevo mettere però visto che stanno entrando anche diverse domande interessanti da parte dei ragazzi se magari riusciamo tenete conto per le 6 e un quarto 6 eventi al massimo chiudere le vostre presentazioni perché ci sono parecchie domande poi visto che poi alle 6 e mezza dobbiamo chiudere tutto quanto ma io voglio parlare anche di me stesso delle mie esperienze a due anni non posso facciamo la seconda puntata ma noi partiamo dagli 11 che non fanno ridere mai nessuno perdonate mi vado avanti allora cercherò di essere va bene di essere più meno prolisso ok allora diciamo diciamo questo per quanto riguarda anche nuove tecnologie ci sono ci sono tre indirizzi di specializzazione partiamo da un presupposto importante quando parliamo di trienni in generale che sia Naba che sia una qualsiasi altra accademia che sia altra università non importa stiamo parlando di un di un livello universitario che non o accademico che non richiede competenze pregresse le università le accademie a livello europeo funzionano allo stesso modo così almeno intercetto alcune domande no il primo ci sono tre cicli il primo ciclo che dura tre anni si chiama triennio ok a questo non vengono richieste per accedere a questo questo percorso non vengono richieste competenze pregresse se non un titolo di scuola superiore il secondo ciclo che è il biennio spesso viene viene chiamato biennio di specializzazione perché perché nel primo ciclo c'è un approccio molto generalista a quello che è il contesto di riferimento nel biennio di specializzazione o secondo ciclo invece il focus è un po' più ristretto tale focus viene ancora più ristretto nel terzo ciclo che quello dei dottorati di ricerca spesso vengono chiamati PhD ora noi siamo nel triennio primo ciclo il che vuol dire che non servono competenze pregresse tutto quello le competenze che vi serviranno ve le passeremo noi ora e avremo come tutti gli altri di trienni un approccio abbiamo un approccio generalista il che vuol dire che dobbiamo introdurvi ai nostri contesti ai nostri campi di interesse ora introdurre gli studenti al campo al mondo della CGI è estremamente complesso dovremmo prendere un triennio e far diventare un trentennio ok quindi quello che possiamo fare quello che abbiamo deciso di fare è quello di dare un'introduzione generale sì e di far sì che con gli indirizzi di specializzazione voi possiate approcciarvi al mondo della computer grafica attraverso tre porte diverse ok immaginate che la CGI sia un grandissimo palazzo e i tre indirizzi siano tre ingressi differenti no oltre a sapere sono i grandi palazzi che hanno tre numeri civici diversi no un po' è un po' questo l'approccio provate a immaginare provate a usare questa come metafora questi indirizzi sono VFX 3D e Game ora con l'indirizzo di VFX voi di base diventerete dei VFX Artist chi è il VFX Artist è colui che mette insieme le fa combaciare quelle che sono gli elementi tridimensionali di un prodotto audiovisivo con gli elementi ripresi in camera con la telecamera ok quindi è un lavoro che spesso viene chiamato di post produzione ora cosa fondamentale è vero in Italia non abbiamo il grande cinema dei blockbuster contemporanei non siamo il mercato non abbiamo l'industria così come c'è in America in Canada o in Nuova Zelanda ma le produzioni che richiedono l'intervento digitale di esperti che sappiano modificare le immagini sono tantissime noi come scuola principalmente siamo a Milano nuove tecnologie in realtà è solo a Milano voi sapete ci sono due sedi Milano che è quella storica e poi c'è anche la nuova sede di Roma a Milano nuove tecnologie è solo presente a Milano ed è solo presente a Milano perché il sostrato di aziende di agenzie di compagnie che lavorano nel mondo dell'audiovisivo è estremamente eterogeneo considerate che ogni volta che vengono realizzati dei video sia che vadano per una sfilata di moda per raccontare un progetto di design per una pubblicità per un cortometraggio per un lungometraggio ecco di base tendenzialmente c'è sempre l'intervento di un VFX Artist un bravo VFX Artist è colui che in qualche modo nasconde il suo lavoro ci sono dei progetti magari dove si vedono delle riprese con delle piogge pazzesche magari questa pioggia sul set non c'era è stata ricostruita digitalmente è un lavoro estremamente distribuito su Milano in Italia come dire le tale figure sono molto richieste quindi se una delle preoccupazioni è no tutto bello tutto ciò ma tendenzialmente non voglio andare all'estero tranquilli ragazzi c'è tanto lavoro in Italia e ce ne sarà sempre di più perché l'innovazione tecnologica digitale permette ad esempio di abbattere le cose e quindi anche le produzioni piccole possono sempre più diffondersi giusto per darvi un'idea in VFX c'è una professione indicata come colorist il colorist è colui che alla fine di tutta la produzione prende i video montati compositati e dà un look finale di colore cioè fa quello che voi spesso fate ad esempio in Photoshop in Photoshop in Lightroom bene giusto per darvi un'idea sapete quanto prende su Milano un ottimo colorist circa 600 euro al giorno come dire di lavoro ce n'è ce n'è tanto e a volte si è anche molto ben pagati mondo del 3D il mondo del 3D è legato a tutto ciò che ha a che fare con la modellazione di personaggi quindi character di ambienti cioè di environment di animazione dei personaggi o degli ambienti all'interno di questi di questi personaggi e alla resa finale di personaggi o ambienti quindi quando parliamo di 3D parliamo proprio di partiamo dalla modellazione quindi si diventerà un 3D modeller un 3D generalista un 3D generalista è colui che sa fare un po' di tutto è un generalista ok che bene si confà al percorso generalista che noi abbiamo all'interno del triennio quindi imparerete a modellare diventerete dei modellatori imparerete a modellare e a costruire dei personaggi quindi farete character imparerete a a mettere dentro i personaggi degli scheletri quindi il rig che poi imparerete anche ad animare quindi vi occuperete di animazione ora e questa è una cosa importante la pratica dell'animazione che noi facciamo all'interno del corso di 3D è una delle tante pratiche non è il nostro focus principale legato al mondo del 3D il focus principale dell'animazione ce l'ha il corso di specializzazione di media in animazione ok noi però ci occupiamo anche di animazione perché inevitabilmente tutti questi mondi sono incastrati l'uno nell'altro e ci bisogna avere competenze per far sì che voi possiate parlare con i diversi professionisti all'interno di un unico team team di lavoro vi occuperete solo di tutto ciò che ha a che fare con il cinema no assolutamente perché quando noi ci occupiamo di game abbiamo bisogno di ambienti di personaggi tridimensionali quando lavoriamo in architettura abbiamo bisogno di previsualizzazioni tendenzialmente molto soprattutto adesso in periodo covid ad esempio molte case nel momento in cui vogliamo cambiarle le possiamo vedere solo in maniera virtuale ci sono molte agenzie che si stanno attivando per far sì che questi servizi vengano svolti da professionisti che modellano gli ambienti delle case e poi queste possono essere viste o col cellulare o con i visori bene questo è un lavoro da 3D generalist e poi c'è game cosa importante anche a media c'è game ma a media fanno game design noi facciamo game development la differenza qual è? che noi lavoriamo nella costruzione nella realizzazione di prototipi funzionanti cioè sì certo ci occupiamo anche di game design ma il nostro focus è capire come costruire realizzare le idee che i game designer sviluppano ora per poterlo fare in un approccio generalista abbiamo bisogno di far sì che anche gli studenti che si occupano di game development sappiano progettare dei videogiochi e ci occupiamo di videogiochi ad amplissimo spettro dalla costruzione di videogiochi semplici per i cabinati stile anni 80 stile Stranger Things ok allo sviluppo di videogiochi per il VR per la Mixed Reality e ovviamente ci occupiamo di tutto quello che ha a che fare con il videogioco dalla programmazione codice all'animazione degli elementi alla relazione con gli elementi esterni tipo i controller o i sensori questo ho fatto proprio una carrellata il più veloce il più veloce possibile lascio la parola a Vincenzo così almeno vi fa vedere un po' di materiali di materiali video e poi dopo vi racconterò io un po' di altri elementi grazie grazie Emanuele vedo che forse posso comandare anche io le slide l'ho scoperto solo verso la fine dell'incontro allora avete il potere eravano pigri esatto mi obbligavo mi stavate mettendo la prova ragazzi grazie ok allora scusami Vincenzo se ti interrompo però non so se puoi accedere anche ai video no ai video a Mizzadino esatto guarda infatti ti chiederei giusto per appunto anche per ottimizzare i tempi qui avete se volete vedere un po' di progetti degli studenti qualcuno appunto prima mi sembra nelle domande scriveva anche di insomma di sentire ovviamente il feedback da parte di studenti quello immagino che oggi non era possibile organizzare il tutto però intanto se vi volete segnare il link a questa pagina Vimeo collezioniamo lì un po' dei progetti più interessanti che escono dal triennio dal triennio di media molti che ancora non vedete vi dico andate a vedervelo ogni tanto perché ovviamente a mano a mano che anche passano le loro diciamo anteprime nei festival poi diciamo li sblocchiamo perché al momento abbiamo tutta una serie di progetti che sono in preselezione o stiamo aspettando di mandare in festival importanti per cui per una questione di anteprime ancora non possiamo renderli pubblici quello che possiamo rendere pubblico e ci sembra interessante lo trovate lo trovate lì e lo aggiorniamo mano a mano adesso se volete se la tecnologia non ci viene contro vi faccio vedere quello che è un po' lo showreel cioè un montaggio di alcune delle delle immagini di alcune delle produzioni degli ultimi anni degli studenti di media design in particolare dell'indirizzo di film e di animazione lo faccio partire subito se vuoi eventualmente anche intervenire commentare i video sopra penso che tu possa parlare se vuoi raccontare a tempo grazie non so com'è il livello dell'audio quindi se parli io ti penso di sentire ditemi voi esatto se se va se va contro o insomma se mi sentite o meno magari passaggi panico due ok come vi dicevo quello che vi dicevo e anticipo così un po' anche le prossime slide rappresentano anche un po' la diversa tipologia di progetti in buona parte sono progetti che vengono realizzati come progetti di tesi alla fine dei tre anni documentari cortometraggi per l'autoriale lo che vedete è un cortometraggio di animazione in questo momento uno è un cortometraggio realizzato al secondo anno l'altro invece è è quello di tesi progetti con anche realtà locali di documentario abbiamo collaborato ad esempio quest'anno con una delle più importanti fiere d'arte contemporanea che è Artissima di Torino abbiamo realizzato tutta una serie di video per per una fondazione importante culturale di Milano in cui abbiamo raccontato attraverso dei video quelle che sono state dei personaggi importanti storici o legati al mondo del design e dell'architettura di Milano che hanno delle case museo dove o delle fondazioni in cui ci sono tutti gli archivi collaboriamo con progetti anche extra ad esempio più di taglio di promozione per una per un'azienda per o per una o per un ente ad esempio quest'anno gli studenti stanno collaborando con un brand molto importante come Porsche per la realizzazione di quattro video che andranno poi nella nella parte di comunicazione social appunto della della dell'importante casa casa automobilistica perché ci chiedono a noi per provare ad avere energie nuove creatività nuove e anche no un ambito in cui si può anche un po' più sperimentare come quella dell'accademia e in cui si riesce nello stesso momento anche a formare i nostri studenti ci confrontiamo anche con l'aspetto della serialità nella all'interno del corso ci sono dei laboratori di sceneggiatura che già hanno un approccio che tenta di andare verso appunto quello che è stato un po' tutto l'impatto che ha avuto il mondo della serialità nell'ambito dell'audiovisivo e si realizzano anche delle pilota di serie tv e chissà che poi un indomani non verranno prodotte e sviluppate struttura del corso i tre anni hanno questa struttura di base per cui c'è un primo anno che è in comune quindi non scegliete subito quello che è l'indirizzo di specializzazione vengono prima date tutte le basi le fondamenta del linguaggio audiovisivo sia teoriche che pratiche quindi da saper utilizzare la camera da saper montare da saper scrivere una sceneggiatura da saper fare una presa diretta del suono saperlo editare saperlo minimamente mixare e per poi passare a un secondo anno che invece diventa più caratterizzante di specializzazione con degli insegnamenti che a seconda dell'indirizzo che avete scelto si attivano solo un esempio tra tutti se fate film avete direzione della fotografia se fate animazione avrete tecniche di animazione 2D e se fate game avrete game design e game development poi ovviamente c'è tutta una brochure anche col piano di studi che potete vedere più nel dettaglio terzo anno cerca un po' di concentrarsi su quello che è il progetto finale di cui avete visto prima degli estratti perché è un intero anno perché dall'idea cioè da avere un foglio bianco a realizzare un film il percorso è veramente lungo e quindi è tutto pensato come come percorso accademico sia per darvi ovviamente anche a livello più di alcuni contenuti anche teorici importanti per il vostro sviluppo anche accademico ma dall'altra parte c'è proprio un dal concept fino alla finalizzazione una supervisione che vi porta così al vostro progetto di tesi finali che è in parte pratico e in parte a una ricerca teorica principali caratteristiche dell'indirizzo di film vi ne ho già anticipati un po' poi ci sono in caso delle domande fatemelo più in specifico dopo quello che vi ci tengo a dire è che è un corso a 360 gradi sul filmmaking cioè quello che si fa all'interno dei tre anni è provare tutte le fasi di realizzazione con dandovi la responsabilità sempre di avere un approccio autoriale quindi si fa dalla sceneggiatura al montaggio alla parte di regia laboratorio di direzione degli attori direzione della fotografia editing e anche una parte di post production capendo che cosa vuol dire quello che si diceva prima una color correction o lavorare con con dei con dei con dei effects l'indirizzo di animazione ringrazio il professor Lomello che ha già dato quella che è una delle cose importanti da farvi capire anche la differenza del rispetto ai due ai due trienni su quello che è l'approccio riguardante l'animazione qua vi ho messo una slide che richiama uno dei progetti che è stato fatto in Nava con la collaborazione dei docenti di Nava che sono dei registi e degli animatori che hanno lavorato che hanno realizzato questo questo film che si chiama Iqbal Bambini senza paura ecco quello che vedete è dallo storyboard alla allo storyboard con i movimenti a quello che è il compositing finale del frame ecco qual è il punto è durante il corso si imparano sia le tecniche che a pensare a progettare il vostro progetto di animazione quindi è una cosa un po' particolare perché dovete anche cercare sarà anche parte del corso quello di capire che cosa andare a raccontare cioè trovo una storia la scrivo io oltre che poi penso io all'art direction e alla regia dell'animazione e conosco anche tutti i vari passaggi infatti ci sono dei moduli specifici per la parte di di previsualizzazione di storyboard per poi arrivare alla chiusura con con un progetto finale game design ecco qua vi ho messo un po' anche un esempio di un progetto di tesi in cui si mischiano un po' quelle che sono anche le competenze che hanno acquisito gli studenti nel corso di tre anni per cui hanno preso hanno girato una parte in live action con con Grischini inventandosi una 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 finta storia e e fondamentalmente poi creando in questo progetto con le competenze anche seppur eh meno approfondite rispetto a uno studente di di nuova tecnologia di game development hanno comunque sono riusciti a mettere in piedi una cosa eh sul sul motore di gioco eh Unity eh un alla fine un gioco che prevede che il l'utente attraverso un 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 diario fisico eh che viene dato al giocatore e una parte in in digitale eh di gioco eh di riuscire a svelare quello che è il mistero della scomparsa di una eh famosa youtuber e quindi hanno hanno messo insieme no tutte le varie competenze nella 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 live action nel nel game design nel game development e anche nella parte più di anche di di art direction e hanno portato questo progetto tra l'altro collaborativo perché spesso questi progetti sono molto complessi e vengono fatti anche in piccoli team eh di studenti in cui si prendono delle responsabilità eh artistiche e anche e anche tecniche perché lo realizzano eh veramente loro eh esempi di progetti finali eh come un cortometraggio eh un film cortometraggio qua vi ho riportato l'esempio di uno di un progetto di tesi l'Ori sta bene questo eh nostro ex studente Simone Bozzelli che adesso sta sfornando praticamente ogni anno un cortometraggio e sempre di più e sempre viene insomma incrociando le dita eh confermato in importanti all'interno di importanti festival eh un biglietto da visita tra l'altro importante perché uscito dalla Naba questo studente è stato preso al centro sperimentale di Roma dove adesso sta concludendo il percorso ed è insomma tra i giovani autori sotto diciamo la lente di ingrandimento del del cinema italiano eh altri esempi vi lo dicevo prima sono cortometraggi di animazioni che diventano un po' l'output finale eh del progetto solo selene del eh dello studente Alessandro Fiori e eh un esempio interessante di questi ultimi anni è stato anche come un gruppo di questi studenti di di game design ha cercato anche di mettere appunto di utilizzare un po' di più spingersi nell'utilizzo di nuove tecnologie come il VR e ha realizzato questa escape room in realtà virtuale partendo da un dramma teatrale di Ibsen degli inizi del novecento e facendola diventare una escape room in realtà eh virtuale eh gruppo tra l'altro di studenti che neanche ha fatto in tempo a presentare la tesi che ha messo su una società e che sta andando avanti con tantissimi progetti eh anche eh importanti eh uno dei riconoscimenti importanti all'interno del corso è sicuramente quello di prendere e portare il proprio film in importanti festival è successo e eh speriamo continuerà eh in questo modo ci piace molto anche per come scuola andare a promuovere una volta concluso il percorso in festival importanti ma stiamo parlando veramente della serie A dei festival cinematografici a livello internazionale Alice Di Chiara Leonardi andò alla mostra del cinema di Venezia nella sezione SIC at SIC cioè settimana internazionale della critica dedicata proprio ai giovani autori eh italiani eh la baracca di Federico Di Corato è stato selezionato nel 2014 allo Carno Film Festival un altro festival importantissimo più recentemente al Torino Film Festival è andata e ha vinto un premio ex eco come miglior cortometraggio il corto di di Saradresti col tempo questi sono i riconoscimenti che voglio dire sono indice della qualità anche no dell'autoriale del del corso eh chiudo con i laboratori ovviamente anche perché penso mi pare fosse anche un tra le domande ma fate laboratorio sì ce li abbiamo con l'attrezzatura che vi serve per svolgere quella che sono appunto tutto quello che che avete visto e ci sono dei buona parte dei corsi ovviamente prevedono che voi passate del tempo nel davanti alla postazione di di editing di color o di di effects abbiamo un teatro di posa c'è un un limbo con un green screen abbiamo delle sale di color correction e di editing delle postazioni per fare la parte di 3d con dei computer molto potenti che vi permettono anche insomma una molto con una grande velocità di calcolo per cui per renderizzare non ci dovete impiegare i giorni e per i nerd che sono che sono connessi sono degli alienware così almeno la facciamo veloce esatto e e quella dal punto di vista cinematografico la possibilità anche di girare con una red camera magari non lo so quanti di voi la conoscono comunque parliamo come dire un tempo c'erano le cineprese 35 mm adesso passando al digitale ci sono una serie di top di gamma di camere che permettono una qualità dell'immagine cinematografica alta nel nostro caso questa arriva a registrare un 5k e calcolate che le posizioni al cinema sono o 2k o massimo 4k quindi direi di passare assolutamente in maniera rapida la parola grazie i laboratori poi sono come dire sono tanti li stiamo proprio progettando in questi giorni stiamo costruendo due nuovi due nuovi laboratori li stiamo progettando proprio noi direttamente proprio Vincenzo e io e altri altri tecnici perché come dire siamo pur come dire dirigendo da un punto di vista accademico le diverse scuole poi abbiamo le mani le mani un po' in pasta perché seguiamo poi i lavori in maniera in maniera diretta le macchine sono veramente tante passiamo da tuttine di motion capture quindi per analisi del movimento dei performer a strumenti per il VR elettroniche controller insomma c'è c'è tempo di giocare e passare le diverse notate perché comunque le attrezzature sono prenotabili cioè voi potete arrivare in accademia prenotarle poterle poterle poi utilizzare anche anche a casa per quanto riguarda nuove tecnologie ragazzi teniamo botta ancora datemi quattro minuti e poi passiamo alle domande cercherò di essere di essere rapido la struttura è sostanzialmente la stessa ok rispetto rispetto a miglia cioè abbiamo un primo anno uguale per tutte per tutti cioè sono le fondamenta partiamo da storie del cinema storie dell'arte capire cosa vuol dire fare concept art cioè le tecniche base del disegno modelleremo un po' in 3D capiremo come si tiene in mano una telecamera come si tiene in mano un microfono come si sviluppano i primi giochi in Unity piuttosto che i primi VFX queste basi ci serviranno o vi serviranno il primo anno per scegliere poi l'indirizzo di specializzazione al secondo anno il secondo anno sarà di base un secondo anno che è quello che amo definire con un approccio convenzionale vi faccio vedere anche velocemente dei video approccio convenzionale vuol dire che vi insegneremo utilizzare le tecniche le tecnologie dalla modellazione al compositing alla programmazione per far sì che voi siate in grado di gestire queste tecnologie laddove queste maggiormente vengono utilizzate cioè per sviluppare videogiochi per modellare ambienti o personaggi o per costruire effetti speciali il terzo anno invece è un po' è un pochino diverso ora vediamo se qui il video parte non ti sento accendi il microfono visto che durano pochi secondi i video posso farteli girare tutti e tre tolto sì ma tutti e tre di fila io ci parlo sopra dai improvviso allora partiamo con il video di 3D ok come vi stavo come vi stavo anticipando questi sono dei lavori che i ragazzi stanno lavorando e producendo durante il semestre non ho tesi ancora da farvi vedere perché le prime tesi i ragazzi le stanno realizzando proprio in questi giorni perché andranno a discuterle i primi per la prima volta a luglio quindi i lavori che voi vedete in realtà sono dei lavori che i ragazzi hanno sviluppato gli studenti hanno sviluppato durante il percorso il percorso il percorso accademico questo era legato al mondo al mondo del 3D quindi avete visto piccole modellazioni e soprattutto dei bei progetti legati alla texturing all'illuminazione il texturing è mettere pelle tu puoi far partire VFX una cosa che ci tengo a sottolineare è che quello che stanno vedendo i ragazzi sono lavori fatti dopo un anno e mezzo d'accademia due al massimo sì sì anche meno sono le competenze come dicevi prima che pur non avendone tanti di loro ciò che sono stati in grado di fare dopo un annetto e mezzo di accademia questo sì ma anche perché ragazzi voi quando entrate in accademia in realtà poi non vi faremo più uscire affrustate attaccate i computer anche di notte no scherzo però vero al di là delle lezioni di passare molto tempo di fronte alle macchine perché sta poi a voi e al lavoro che va al di là delle lezioni cioè diventerete bravi solo se vi appassionerete insomma di base un po' passiamo al game game qui i progetti sono tanti sono tanti differenti perché abbiamo sviluppato dei videogiochi prendendo sulla falsarica quello che era il contesto contesto Naba abbiamo costruito dei cabinati anni 80 per far sì che gli utenti potessero giocare direttamente con i controller anni 80 di base noi utilizziamo Unity come engine di lavoro e al terzo anno da quest'anno abbiamo introdotto anche Unreal i giochi sono divertenti sono divertenti funzionano ho provato dei giochi totalmente funzionanti e ci sono anche perso parecchio tempo e alcuni anche tendenzialmente folli ma questo fa parte del gioco Vortex come vi dicevo prima è proprio la vai pure in play tranquillamente è proprio la realizzazione di quello che è il compositing cioè la commissione di elementi virtuali con elementi digitali da esplosioni queste erano delle riprese fatte con con il VR piuttosto che col fatto che noi collaboriamo con molte aziende nazionali e internazionali giusto per dare una risposta ad uno ad una delle domande quello che possiamo fare a volte è che i docenti che sono responsabili di alcuni progetti di alcuni progetti reali possano condividere con gli studenti alcuni shop che loro hanno proprio girato per il lavoro e quindi i ragazzi possono direttamente lavorare su su progetti su progetti reali e questo è proprio l'approccio classico al al secondo anno qui vado in carrellata e vi faccio vedere un po' un po' di di immagini questa in realtà è un'immagine che non è proprio del secondo anno anzi è un bagno che un gruppo di tesi sta realizzando per il proprio progetto proprio in questi giorni la qualità è decisamente molto alta quindi ci tenevo ad inserirla questo e il bagno viene tutto renderizzato in tempo reale e verrà utilizzato per un videoclip quindi in realtà degli studenti di game quello che vanno a fare è che costruiscono con un software per il game un videoclip che invece in realtà viene considerato un classico prodotto audiovisivo questo perché? perché nel terzo anno quello che noi facciamo è cerchiamo di avere un approccio non convenzionale cosa vuol dire? vuol dire che mischiamo un po' le carte mettiamo insieme le competenze di VFX di 3D e di game su un unico progetto questo è il progetto che cuba l'intera energia di tutti gli studenti del terzo anno per il primo semestre e noi quest'anno quello che andremo a fare fai partire l'ultimo video se ce l'hai Stefano grazie e poi con questo vado a cubre l'ultimo video allora un pochino più a real real time in camera ho detto iap a voce alta? sì ogni tanto faccio finta di essere ancora giovane ma non iap allora quello che vi dicevo prima il terzo anno quest'anno lavoreremo su un progetto sperimentale attualmente in Italia non c'è ancora nessuna produzione che lavora su questi livelli quello che stiamo facendo è che i nostri docenti ma anche sui lens e i soci tutti importanti stanno collaborando insieme a noi per la realizzazione di un progetto di questo tipo cioè quello che vi dicevo prima quello che voi state vedendo in questo caso l'ambientazione di deserto non è un deserto reale ma viene tutto realizzato attraverso dell'erroco quindi quello che noi stiamo facendo in questo momento stiamo chiudendo degli accordi con dei servizi video e con delle case di produzione per avere accesso a questi ledgole poi utilizzeremo i nostri computer e i nostri sistemi di analisi del movimento per andare a costruire questo sistema tutti i contenuti verranno realizzati con tutti gli studenti insieme cioè faremo una produzione in cui ci saranno 15 docenti e circa 60 studenti lavoreremo insieme per tutto per tutto il semestre io con questo sostanzialmente ho concluso vai pure in chiusura in chiusura Stefano e direi ragazzi se avete domande il libro spazio le vostre pastiere eccomi ci sono allora apro un pochino la allora le domande che sono arrivate da parte dei ragazzi vediamo un pochino cosa c'è allora sto vado in ordine così cerchiamo anche con la vostra collaborazione di rispondere un po' a tutte quante la prima cosa che dico subito è uno mi chiede non ho capito se ci sono test di emissione in design sì c'è anche per tutti gli altri corsi visto che sei interessato al mondo di design e hai seguito questo se sei ancora collegato ti invito a collegarti giovedì anzi il giorno 8 luglio dove dalle 5 alle 18.30 replicheremo un'esperienza di questo tipo dedicata solo al mondo di design questo per darvi una risposta e dico anche ne approfitto per dirvi che invece il datemi un secondo il 9 luglio il giorno successivo ce ne sarà un'altra sempre a 17.30 legata al mondo di moda questo per cui vedo anche la domanda differente tra accademia e politecnico per fare la stilista lì avrà tutte le risposte altra informazione trasversale caro tutti quanti mi chiedono in base visto a data l'emergenza si sono rallentate posticipate date di apertura immatricolazioni e via dicendo allora fresca fresca la notizia che l'anno accademico inizierà il 12 ottobre le lezioni saranno strutturate in modo che possono essere seguite vi parlo solo del primo semestre poi sperando che tutto si risolva ci saranno comunque degli aggiornamenti ci sarà la possibilità di seguire il primo semestre per chi ancora non si sente confidente nel postarsi a Milano seguire totalmente a distanza il primo semestre le parti laboratoriali verranno recuperate nei mesi successivi senza nessuna perdita di crediti o altro sarà richiesto magari un maggiore impegno però è stata data anche questa opportunità in generale l'idea per chi invece decide di seguire la formula blended che è una via di mezzo tra una parte teorica in virtuale e in presenza in cui le lezioni teoriche sono per l'ottanta per cento in modalità virtuale le lezioni teorico pratiche 50 e 50 50 in presenza e 50 in virtuale le lezioni laboratoriali sono per l'ottanta per cento in presenza e il venti per cento in modalità laboratoriale l'accesso ai laboratori sarà su prenotazione contingentato per mantenere tutto rispetto al livello di distanziamento e di rispetto alle norme sanitarie l'accademia a livello di struttura si è dotata di tutte quelle che sono i servizi necessari dai distributori di gel misuratori di temperatura termocamere in alcune aree sono stati messi dei semplici separi per permettere di lavorare tutti in una maniera confortevole sicura e tranquilla per cui l'accademia si è dotata di tutte le strutture dedicate giusto per darvi un'idea NAB è stata la prima accademia che nell'unica che nell'arco di 24 ore dal lockdown ha portato tutta la sua didattica in modalità virtuale e l'indagine fatta tra i ragazzi che hanno affrontato questa esperienza al termine dei mesi di lockdown è stata che il 90% ha dato una soddisfazione massima a quelle che sono state le metodologie e gli strumenti messi a disposizione dell'accademia questo periodo di Kenaba è totalmente pronta ad accogliere gli studenti e a fornire una didattica di pari livello anche attraverso l'uso delle nuove tecnologie delle quali abbiamo appena visto anche con le presentazioni dei docenti l'accademia è assolutamente fornita in merito ai laboratori c'è già stata una risposta i titoli di studio che si ottengono ripeto hanno lo stesso identico valore legale di un titolo universitario quando voi fate un triennio il lettere ipotizziamo al termine del triennio avete il diploma di laurea in accademia avete il diploma accademico cambia il nome ma non cambia assolutamente il valore legale del titolo ottenuto che ottenete ok questo è tale e quale il consiglio che veniva dato era legato agli studenti se qualcuno volesse avere qualche nominativo o poter seguire qualche ex studente qui lascio la parola magari i docenti se potete dare qualche flash qualche sito qualche nome qualche cognome di personaggi che hanno frequentato l'accademia i vostri corsi Vincenzo vi viene in mente Chiara Leonardi dei ragazzi di Magari sì Chiara Leonardi come dicevo prima che è stata selezionata la settimana internazionale della critica di Venezia ha fatto Naba è stata negli ultimi anni assistente la regia di Matteo Garrone uno dei più importanti registi di cinema italiani i ragazzi che vi dicevo del progetto quello dell'escape room in VR hanno fondato questa società che si chiama Magari che ha lavorato se qualcuno è stato a Luca Comics nell'ultima edizione hanno fatto tutta la parte della casa di Paperino hanno fatto tutta una serie di progetti per UR Leo che è stato per il cinquecentenario di Leonardo Da Vinci a Milano abbiamo un altro alumni diciamo Naba che è Marco Martellato che è in Ubisoft ed è 3D artist alla Ubisoft di Milano mi viene in mente sempre alla Ubisoft ad esempio un altro studente che non solo adesso lavora è stato studente di media in realtà anche se aveva poi una formazione molto più un approccio più tecnico Samuele Cigardi che adesso è tornato in Naba come docente spesso capita che ex studenti dopo un'esperienza di lavoro di lavoro in realtà nazionale internazionale poi ritorni spesso capita che io stesso nel 2006 sono stato studente di un master di interaction design e poi sono ritornato come docente gli studenti che lavorano all'estero e poi ritornano su Milano e a volte ritornano anche in accademia è un qualche cosa che capita è un qualche cosa che ci piace Chiara stessa ogni tanto ritorna a fare delle talk i ragazzi magari spesso ci aiutano negli open day insomma la connessione e l'aggregamento che dall'accademia in qualche modo poi rimangono e c'è poi una sorta di affezionamento che ritorna nel tempo Davide Gatti ad esempio per nominare lui proprio legato al mondo della musica sì sì addirittura la fotografia tra i videoclip mainstream negli ultimi due anni da Mahmoud a Mescheta parlando di Mescheta un altro alumni di media design Simone Rovellini è l'art director e regista di tutta la parte dei contenuti audiovisivi di Mescheta altri poi sono in tante le case di produzione poi sono tante e vabbè magari appunto adesso vi ho andato anche quelle con i nomi più di impatto ecco però devo dire che nel corso insomma parlo anche in generale come esperienza come docente anche per dire questo ambito è vero non ci sono delle grandi realtà non siamo a Hollywood non abbiamo un impatto industriale come ce l'ha può avere la Germania o la Francia ma ci sono tante comunque tante realtà e si trova si trova alla fine un posizionamento chiaramente varia tantissimo da chi entra veramente nel cinema a chi addirittura si adatte o degli studenti che adesso creano dei video animati per il mondo della finanza per la presentazione che è una cosa che neanche avrei mai immaginato che poi potesse esserci ma c'è qualcuno che in forma di racconto per immagine deve far sì che degli investitori investano un sacco di soldi su dei progetti poi importanti per sviluppare perché è diventato un linguaggio che si utilizza ormai per tutto e ci vogliono dei professionisti dietro le relazioni poi con le aziende sono veramente sono veramente tante giusto per darvi un'idea abbiamo organizzato una design marathon in accademia circa due o tre settimane fa le design marathon sono degli hackathon cioè partono il venerdì finiscono la domenica si lavora notte e giorno letteralmente notte anche viene lanciata un'idea da parte di alcune aziende e gli studenti la risolvono quest'anno ad esempio nell'ultimo design marathon era presente Lego giusto per darvi per darvi un'idea di un brand conosciuto ed era presente Lego International non Lego Italia quindi per ritornare alla domanda di prima anche quali sono se ci sono le realtà con il mondo estero sì ci sono alcuni nostri docenti sono docenti che insegnano in grandi studi come IDO a San Francisco piuttosto che Media Monks ad Amsterdam lo possiamo fare perché perché molti nostri docenti sono freelance cioè sulle materie pratiche quello che noi quello che noi abbiamo che i docenti insegnano alcune ore in accademia e passano il resto della loro settimana professionale nei propri studi e questa è una connessione una connessione molto forte con il contemporaneo e con il mondo del lavoro perché poi a volte capita che gli studenti migliori vanno poi a lavorare e a formarsi proprio negli studi dei loro dei loro docenti abbiamo studenti studenti che durante il secondo e terzo anno già fanno videoclip per Gali per dirvi esatti due passaggi fondamentali che mi piace sempre ricordare dal punto di vista l'inserimento professionale una cosa che dico che spesso e volentieri capita che chi fino a ieri chiamavano prof da un giorno con l'altro diventa il loro capo il loro datore di lavoro per cui c'è anche un ingresso morbido per i ragazzi nel mondo del lavoro che si ritrovano con una persona che già conoscono per cui c'è un certo tipo di rapporto e dall'altro il docente stesso che va a allargare il proprio staff con delle persone di fiducia per cui è un guadagno reciproco sia per lo studente che per il docente dall'altro mi collego all'ultima cosa che dicevi appunto tu Vincenzo legata a questo esempio di Gali come poi ad esempio ne abbiamo visti già tanti come già dal secondo anno capita spesso che i ragazzi si trovino a lavorare a dei progetti reali che danno solo vantaggi in primo luogo un discorso di motivazione lavoro a un progetto reale non è una semplice esercitazione in secondo luogo inizio a creare una rete di contatti mi faccio delle esperienze capisco quello che mi aspetterà poi nel mondo del lavoro e in terzo luogo inizio a creare un mio portfolio un insieme di progetti che non sono ripeto solo esercitazioni ma progetti reali e quando poi si va a proporre nel mondo del lavoro questo ragazzo neodiplomato si riesce ad avere un po' quel famoso obiettivo irraggiungibile del giovane con esperienza perché è giovane neolaureato ma già con una serie di esperienze da parte sua io direi che siamo stati nei tempi faccio una breve carrellata ma io non vedo altre domande da parte dei ragazzi siamo riusciti a soddisfare tutte le le loro richieste non so se c'è qualche domanda dell'ultimo momento non vedo nessuno direi che per un rispetto delle tempistiche abbiamo detto tutto quanto lascio non so se voi come docenti volete lasciare un ultimo invito un claim un colpo di scena finale visto che si parla di ammissi spesso facciamo noi test di ammissione siamo persone corruttibili abbiamo la birra artigianale venite al solito faccio sempre battute perdonate no in realtà no quello che vi possiamo dire ragazzi è che in realtà la palla sta un po' a voi noi quello che possiamo fare è che amiamo costruire griglie di relazioni tra giovani professionisti come le quali potete essere voi venendo in accademia e il mondo del lavoro del lavoro esterno ci piace capire come aiutarvi a poter crescere detto ciò pur essendo l'accademia classi piccole pur essendo voi seguiti in maniera molto più puntuale rispetto ad una situazione dove magari le classi sono molto più ampie considerate che al di là di quello che possiamo fare noi il grosso sta nelle vostre mani quando prima dicevo lavorare di notte sì lo facciamo noi ancora adesso dopo tanti dopo tanti anni vi capiterà forse anche ve lo chiederemo in qualche modo cioè al di là delle lezioni quello che potete fare e ciò che conta è il momento che intercorre tra una lezione e l'altra quanto voi in autonomia sarete maturi nell'andare ad approfondire argomenti che noi affrontiamo in aula nulla di più bello di arrivare a lezione con domande molto complesse da parte di voi studenti con magari alcune situazioni tipo occo non lo so studio e approfondisco per la prossima lezione quindi stupiteci grazie mille grazie mille davvero Vincenzo non so se hai anche tu un ultimo invito io credo che adesso è vero che come dire abbiamo passato un semestre a distanza e nonostante tutto abbiamo portato avanti come dicevi tu anche degli ottimi risultati al di là sicuramente delle aspettative io credo che questo ambito tra nuove tecnologie e media ma anche tutto quello che ci sta attorno che è moda che è grafiche comunicazione che è design crea un campus veramente in cui la parte creativa ha modo di svilupparsi di trovare delle connessioni anche tra studenti tra gruppi di lavoro che sono fortissime parlando solo dei nostri due corsi insieme è una realtà che ha alla fine 350 studenti adesso si aprirà anche con un biegno e che permette veramente anche di trovare i vostri team di lavoro che è una cosa anche questa fondamentale poi per il futuro come l'esempio che vi facciamo prima di magari e non è una cosa così semplice da trovare in Italia al momento credo che sia uno dei plus importanti e anche nei progetti che vedete l'esempio che ha portato Emanuele della virtual production è una cosa veramente complessa e grossa che forse una scuola dove tante competenze da tante parti sono presenti può portare avanti e questo devo dire che insomma la stiamo costruendo e aspettiamo persone volenterose a entrare e buttarsi anche con noi in progetti pazzi alla fine perché ci vuole anche un po' di di pazzia se vogliamo lavorare la pazia è benvenuta ragazzi io ringrazio tutti i partecipanti perché vedo che fino alla fine siete rimasti in tanti è stato veramente un piacere vuol dire che siamo riusciti ad appassionarvi vi invito a controllare sul sito a tenervi aggiornati vi ricordo il 14 e 16 luglio le ultime date del test per poter ottenere la borsa di studio spero di vedervi presto ecco l'ultima cosa che vi dico i campus di Roma e di Milano sono già aperti e potete tranquillamente contattare l'ufficio orientamento per fissare una visita per venire a visitare il campus accompagnati dai nostri colleghi di orientamento a visitare i laboratori vedere come sono gli spazi e capire e toccare con mano e respirare l'aria dell'atmosfera io vi ringrazio di nuovo invito al prossimo webinar sempre con Naba che sarà la prossima settimana potete vedere il calendario e anche l'invito che vi è stato fatto vi auguro a tutti buona serata grazie ancora e a presto a tutti quanti ciao ragazzi ciao a tutti grazie grazie